Mi trovavo sul palco a suonare, stavo facendo una solo, la musica mi travolgeva e io suonavo senza fermarmi. Appena la musica si stoppò, tutto il pubblico applaudì e qualcuno, anzi tutti, si alzarono in piedi, per me. A un tratto, però, si fece tutto il più confuso. Mi trovavo in camera mia, c'era la luce che entrava dalle finestre. Presi il telefono e, guardando l'orario, mi accorsi di essermi addormentata per due ore. Quindi, tutto quello che avevo vissuto era un sogno. Non me ne capacitavo, non era possibile, non era possibile che fossero passati solo due ore. No, no. Io avevo visto tutto. Non era un sogno. A volte la mente fa brutti scherzi. Ma quella volta, quella volta me ne aveva fatto uno terribile. Io ero disperata. Non era così tanto che iniziai a piangere. E forse, fu proprio quello che mi fece cadere in un sonno profondo, che mi portò soltanto a vivere una storia diversa. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti